Il titolo della lezione chiacchierata di oggi è letteratura europea e scuola. Noi di letteratura europea abbiamo già parlato. Oggi proveremo a vedere come si possa declinare questo discorso scuola e perché farlo. Io l'ho messo in modo problematico il fatto se sia utile studiare la letteratura europea a scuola, ma naturalmente penso che sia molto molto utile. La risposta più facile, quella che tutti conoscete, è che la letteratura italiana è organicamente collegata alla letteratura europea, intese come altre letterature o una letteratura in particolare di volta in volta, fin dalle origini. Le origini della letteratura italiana, come sapete come me, non sarebbero pensabili, certamente senza rapporto con la letteratura latina, ma soprattutto per quanto riguarda la letteratura in volgare, con la letteratura antico francese e con la letteratura provenzale. Quanto a dire i due generi principali che connotano la, potremmo dire, la modernità letteraria europea, che inizia esattamente allora. Quindi noi non possiamo capire la lirica italiana delle origini, Dante compreso, che non a caso, come ricorderete, pone come una sorta di alter ego di sua figura un trovatore provenzale, un trovatore provenzale, forchetto di Marsiglia in paradiso. Ne potremmo capire gli inizi della prosa volgare, della novellistica italiana, boccaccio compreso, come sapete pure bene, senza i precedenti francesi. Quindi sono due letterature che vanno di comune accordo. Poi dal XIII secolo in poi, occorre dire, la letteratura italiana diventa progressivamente, direi, egemone per quanto riguarda l'altezza dei suoi risultati. Il caso, ma non il caso, se ci pensiamo bene, ha voluto che i più grandi ingegni, i più grandi geni della letteratura italiana nascano fra XIII e XIV, e operino soprattutto fra XIII e XIV secolo, le famose tre corone. Ma naturalmente questo non è un caso, perché, come abbiamo ribadito proprio recentemente, aggiungendo, se vogliamo, un quarto personaggio a queste tre corone, che normalmente non viene aggiunto a loro, inserito insieme a loro, cioè Marco Polo. Marco Polo non è solo un personaggio straordinario, che tutti conosciamo, quello che ha aperto il mondo all'Europa, quello che ha dilatato il mondo anche dal punto di vista cartografico, scientifico, eccetera, eccetera, ma ha anche scritto un libro che è Il Milione, lo cito nel titolo italiano, che ha intanto avuto un successo straordinario e paragonabile solo a quello della commedia, per l'impulso immediato che hanno avuto le traduzioni e la trascrizione del testo in tutta l'Europa, e che poi è durato attraverso il tempo fino a noi. Ma è anche un grande testo letterario, soltanto che non è stato, a mio avviso, e dico a mio avviso perché effettivamente è ancora un argomento su cui ragionare e che ha delle conseguenze anche sul canone scolastico, perché Marco Polo si riduce a poche pagine, a volte forse non viene neppure fatto nella programmazione scolastica, intendo Marco Polo, intendo Il Milione, ma Il Milione è non solo un libro che apre il mondo, il mondo di questa terra, Dante ha aperto, ha percorso il mondo dell'aldilà, ma è anche un grande libro che non è stato capito perché non figura fra i generi letterari tradizionali. I generi letterari tradizionali abbiamo citati poco fa, lirica e il romanzo nelle loro varie articolazioni, Il Milione ha sempre lasciato sconcertati anche più grandi critici come Gianfranco Contini, perché in un secolo anche a un pensiero di tipo idealistico, si cercava l'unità del libro. Questo non è un libro unitario, è un libro che contiene al suo interno molti libri, perché è una relazione di viaggio, è una relazione di scoperte scientifiche e geografiche, è una inchiesta antropologica, in qualche modo, è una raccolta di avventure, è un romanzo d'avventure, è un romanzo autobiografico, è anche una raccolta di novelle. Quindi non c'è apparentemente un filo unitario, anche se il filo unitario c'è, ed è Il Viaggio stesso di Marco Polo, è il suo racconto anche scandito temporalmente. Ed è un genere che poi diverrà un vero e proprio genere, il genere delle letterature di viaggio. Ora questo, da un certo punto di vista, noi del post-900 dovremmo essere pronti a capirlo più di ogni altro, perché si avvicina a molti altri esperimenti e a molti modi di scrittura che sono tipici della nostra contemporaneità, però finora non lo è stato. Ecco, questo è il motivo fondamentale per cui io prima dicevo che accanto ai tre grandi, le cui relazioni con la letteratura europea sono fortissime e che noi necessitiamo di conoscere per capirli profondamente, nel caso di Marco Polo invece si tratta veramente di un'invenzione nuova, perché c'erano state relazioni di viaggio precedenti ma scritte in latino, di Francescani e con caratteristiche del tutto diverse. Perché l'Italia ha avuto questo singolare privilegio di avere alcuni dei più grandi scrittori mai apparsi sulla scena europea, tanto da determinare, contrariamente alla nascita della letteratura italiana tributaria della Francia e della Provenza, tanto da determinare dopo una egemonia italiana sulla letteratura europea, perché questi signori hanno avuto l'avventura di nascere in un periodo storico, di straordinario sviluppo e novità, quello segnato dalla rivoluzione mercantile e finanziaria, che nasce in Italia, nasce a Firenze, a Venezia e già prima con le Repubbliche Marinare e il loro dominio sul Mediterraneo, da cui anche i grandi viaggi fino a Marco Polo, è impronta di sé una nuova civiltà. È una nuova civiltà che può essere vista negativamente, come nel caso di Dante, che gli è ostile e crede che in quel momento stia finendo il mondo. Noi vedremo che questo problema della crisi e della fine del mondo sarà un motivo guida che ci aiuterà a capire anche come insegnare la letteratura italiana del Novecento, che è uno dei grossi problemi che si hanno a scuola, perché manca un canone del Novecento e una linea interpretativa precisa, anche in tutti i manuali o quasi tutti i manuali che voi avete a scuola. Questo aspetto dell'ingresso attraverso lo sviluppo italiano in una nuova civiltà, non per un determinismo materialistico semplice, ma è inevitabile collegarlo alla grandezza di questi autori. La grandezza di un autore non dipende dal suo rapporto materiale con le ragioni economico-sociale, però noi dobbiamo constatare che sono tutti e quattro espressioni e interpreti di questa straordinaria crisi, che può essere vista come negativa, come Dante, che la contrasta, pensa che sia la fine della civiltà, in un certo senso, la fine del mondo, e cerca rifugio e spiegazione e salvezza per l'umanità in questo straordinario e geniale viaggio nell'altro mondo, nella poesia, che attraverso di lui potrebbe salvare. Lui lo dice esplicitamente, questa non è una nostra interpretazione, è Dio lo ha scelto per grazia per salvare l'umanità dallo stato di miseria in cui versa. Vedete, è una visione negativa. Petrarca è l'interprete del passaggio come boccaccio da una civiltà comunale a una civiltà signorile, ormai con forti legami anche con l'Europa. Petrarca, voi sapete, vive in Francia, da Vignone per un lungo periodo. Si ritiene attraverso il latino l'interprete di una nuova cultura, quella che poi sarà la cultura umanistica, in latino, ma il capolavoro lo scrive anche egli in volgare. Boccaccio scrive sia in latino che in volgare, ma il capolavoro lo scrive in volgare, e Boccaccio racconta, attraverso il Decamerone, l'epopea della nuova civiltà, dei mercanti. Voi sapete che, fra le tante cose che si possono dire, che quello che emerge con il Decamerone è la virtù dell'ingegno, la virtù dell'intelligenza, per cui un personaggio che la Chiesa avrebbe sbattuto all'inferno come serciappelletto diventa una specie di simbolo, di eroe della nuova cultura. E guardate che gli stessi aspetti di comporre, per così dire, un'opera che è l'epopea del mercante, lo si può dire per Marco Polo. In questo senso, dicevo, è per il milione, che attraverso il viaggio di Marco rappresenta, anche guardate dal punto di vista stilistico, con quella forma paratattica breve che egli usa, con la struttura che è quasi una sceneggiatura di un film o di una serie televisiva moderna. E infatti il milione è stata l'opera che si è prestata di più, non solo a traduzioni all'interno del genere letterario, del genere di viaggio, ma in una traduzione in tutti i possibili formati dei mass media, film, televisione, fumetti, eccetera. La mostra che è in corso adesso a Palazzo Corsini è testimonia di tutto ciò. Quindi le origini sono fortemente connesse all'Europa attraverso il rapporto con la Francia. L'Italia, attraverso i suoi autori, diventa un modello per l'Europa. Questo avvierrà ancora per tutto l'umanesimo e il rinascimento, in cui l'italiano stesso come lingua sarà, e le opere saranno lette in italiano. Il principe di Machiavelli diventa il livre de Chéret di tutti i grandi e potenti europei, finché a un certo punto la storia italiana, la sconfitta nel primo passaggio che segna la modernità, cioè la costituzione di uno Stato nazionale, l'Italia lo perde e diventa un paese, dobbiamo usare questo termine, nella prospettiva di lunga durata, un paese coloniale. Se noi non pensiamo all'Italia come a un paese che dopo l'unità ha dovuto affrontare i tipici problemi dei paesi postcoloniali, non riusciamo a capire molte cose. Ma in letteratura le cose stanno un po' diversamente, perché il peso straordinario del primato italiano nei secoli precedenti dura. E siccome la letteratura, a differenza della scienza, non tralascia, non lascia da parte ciò che è stato superato da nuove scoperte, anche se recentemente anche la storia delle scienze ha una parte molto forte nella scienza viva, ma in letteratura Ulisse non viene mai superato, dura attraverso Dante, attraverso Joyce, attraverso tanti altri autori, fino a noi. Cioè il sapere letterario procede per accumulazione. E quindi quel patrimonio che la letteratura italiana aveva costituito, grazie al rapporto stabilito anche con la letteratura francese e con la letteratura latina, dura anche attraverso il tempo. E anche quando gli altri stati, le altre letterature, attraverso la costituzione di stati e nazioni, stabiliscono un'egemonia nazionale, tanto che danno origine a grandi movimenti in cui l'Italia è defilata rispetto al centro di irradiazione, l'illuminismo, il romanticismo, il decadentismo, però la letteratura e anche la storia dell'arte italiana mantengono una loro forte specificità. E questa forte specificità, poi nel momento in cui anche l'Italia diventa un grande paese europeo, uno stato-nazione forte, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando una delle peggiori sciagure che hanno segnato la storia italiana attraverso l'entrata in guerra insieme alla Germania viene distrutta una parte della civiltà italiana e viene distrutta l'Italia come stato-nazione e attraverso la condivisione delle teorie della razza nazista vengono espulsi dall'Italia alcuni dei più grandi ingegni che vanno invece a costituire la fortuna degli Stati Uniti e di altri paesi, però nel Novecento, già dalla fine dell'Ottocento, noi possiamo pensare alla letteratura italiana come a una letteratura che si è inserita fortemente nella grande letteratura europea. Ci si è inserita però in modo, certo, non è il centro propulsore della modernità letteraria che ormai proviene da altri paesi, dalla Francia, dalla Germania sin dall'Ottocento, dall'Inghilterra e poi dopo la Prima Guerra Mondiale anche dagli Stati Uniti. Però c'è qualche cosa che lega insieme tutte le letterature nazionali e la letteratura italiana e in cui la letteratura italiana attraverso qualcosa che voi non avete registrato nelle vostre storie letterarie a scuola. Qui è un corso d'aggiornamento, quindi mi permetto di inserire anche considerazioni che non fanno parte né della formazione universitaria purtroppo che si dà nella grandissima parte delle università italiane, né a scuola. Perché cercheremmo di vedere oggi perché la letteratura italiana del Novecento è in parte, anche cospicua a volte, soprattutto in alcuni autori, una grande letteratura europea e mondiale. Il punto che accomuna la letteratura, la coscienza critica italiana e alcuni autori alla grande letteratura europea parte da quello che qui vi ho messo come titolo, citando la lettera, la traduzione di una frase di Auerbach sullo scopo e il metodo, lo scotimento dell'Europa. All'inizio del Novecento comincia a serpeggiare e a divenire sempre più forte l'idea che l'Europa sta vivendo una crisi fortissima. Che nel periodo fra le due guerre, negli anni Trenta, che sono un periodo determinante per capire la storia del Novecento, proprio perché sono il centro di radiazione di questo problema, ma anche negli anni precedenti, da quando un singolare personaggio tedesco che godette di molto credito con un libro da molti punti di vista assolutamente superficiale, cioè Oswald Spengler, pubblicò Il tramonto dell'Occidente. Questo è divenuto quasi un punto, un simbolo, un'icona di un'Europa che stava perdendo la sua funzione nel mondo. Come poteva essere immaginato un aspetto del genere quando l'Europa era ancora rappresentata dall'impero inglese, dall'impero francese, da una Germania che aveva l'egemonia continentale? Dal fatto che, evidentemente, già si avvertivano i segni di una crisi di questo sistema, ma soprattutto per quello che avevano cominciato a immaginare alcuni grandi personaggi, alcuni grandi autori della letteratura. da Baudelaire, come vedremo poi, ben compreso da Pasolini, che in una delle sue recensioni ha una frase del genere. I fiori del male escono nel 1857 e fanno di colpa retrocedere e invecchiare a uno stato di marginalità provinciale tutta la letteratura italiana, tutta, compreso gli autori che voi e noi siamo stati costretti a studiare a scuola come autori significativi certamente del patrimonio nazionale, ma che non lo erano nella canone letteraria europea e mondiale. Tutti, tranne Leopardi, occorre dire, che però ha sofferto di questa sua collocazione italiana e è stato riscoperto solo recentemente. Questo stato di inferiorità della letteratura italiana rispetto alle più importanti letterature europee è durato dunque un secolo e non è ancora veramente finito. Queste cose Pasolini le scriveva negli anni 70 in una di quelle sue recensioni straordinarie che lo fissano un po' come uno dei grandi critici letterari della letteratura italiana contemporanea. Ve l'ho citato perché vi mostra come già Baudelaire, come sapete, ha proposto un modello di letterato, di poeta in crisi. In crisi. Cioè incapace di riconoscere il proprio ruolo nella nuova società borghese, capitalistica, metropolitana soprattutto, perché le due cose vanno insieme. La costituzione di una grande industria, l'ammassarsi di enormi quantità di esseri umani nello stesso luogo, nella città, nella metropoli, porta ad uno sconvolgimento culturale, a uno sconvolgimento della letteratura, a uno sconvolgimento anche del senso dell'essere poeta, un po' meno per quanto riguarda il romanzo, ma anche il romanzo. Ecco, da quel momento in poi comincia in tutta la letteratura, ma anche nella filosofia, anche in altri settori delle scienze umane, l'idea che l'Europa sia in crisi, che l'Europa sia destinata a una decadenza irrimediabile. Se noi pensiamo all'oggi, a quello che è capitato dopo, occorrerebbe dire che questi erano dei profeti di sventura, ma dei profeti reali, che avevano visto bene, perché l'Europa oggi è certamente un'entità che tenta di riorganizzarsi, di ridivenire un insieme organico, ma non ci riesce, perché purtroppo il nazionalismo, che l'ha distrutta con la prima e la seconda guerra mondiale, continua a impedire che si crei una vera unione europea, e quindi di fronte ai giganti continentali, come ormai dicono tutti, o l'Europa fa un salto in avanti, oppure siamo noi, in quanto europei e italiani, destinati a un declino inesorabile. Ecco, se noi pensiamo a questo punto al Novecento, e a come possiamo capire il Novecento e studiarlo e presentarlo a scuola, anche determinando un interesse degli studenti. Poi dovremmo parlare di un problema ancora più profondo, ma vedremo, cioè del fatto che a un certo punto in questa crisi della centralità di una crisi della letteratura e della cultura europea subentra un elemento che rovescia completamente il punto di vista, cioè l'invenzione della radio, l'invenzione della televisione, l'invenzione dei social, l'invenzione di tutto ciò che pervade gli studenti e i giovani, soprattutto oggi. Bene, se noi partiamo da questi presupposti, tutta la storia letteraria del Novecento ci apparirà secondo un'altra veste, molto più credo digeribile e comprensibile anche per gli studenti, ma nei manuali scolastici, nel 99% dei manuali scolastici, di tutto ciò non vè traccia. Non vè traccia perché oltretutto la questione della crisi dell'intellettuale, del poeta, della cultura e della letteratura che diviene una crisi esistenziale con l'avvento dei modelli dei mass media è qualcosa che tocca in profondità anche il ruolo degli insegnanti, anche la funzione degli insegnanti nella società moderna. E allora o noi siamo capaci di porci di fronte a questo problema oppure, come diceva Schelling, vivremo permanentemente dentro di esso senza comprenderne le ragioni. Ecco, se noi pensiamo a una linea che attraversi il Novecento come secolo della crisi e capiamo che per questi intellettuali quello che in altri ambiti può apparire come sviluppo, come crisi in positivo, perché la parola crisi è una parola straordinaria perché sin dall'etimologia ha in sé questa doppia valenza, cioè punto di decisione, punto di possibile catastrofe ma punto anche di risposta in quanto decisione di sviluppo dal punto di vista del letterato tradizionale, dei generi letterari tradizionali, della loro posizione e di quel ruolo che nell'Ottocento con l'Omanticismo si era immaginato che i poeti e già Dante se vogliamo ma attraverso tutta la storia precedente l'idea che il poeta fosse l'interprete privilegiato del senso del mondo tutto ciò sta finendo o per alcuni è già finito. Ecco, se noi capiamo questo la crisi dell'Europa come crisi della civiltà ci appare come crisi di un modello in cui lo scrittore l'intellettuale vede erodere il senso della propria funzione e della propria collocazione sociale e guardate che l'ultimo derivato di questa crisi è il modo in cui oggi vengono trattati gli insegnanti a scuola che invece dal punto di vista di una società avanzata scientificamente e tecnicamente dovrebbe essere il punto centrale di riflessione di una classe dirigente che voglia pensare al futuro di un paese o di una nazione come preferisce la nostra Presidente del Consiglio e come è scritto peraltro nella Costituzione ora c'è qualcuno che ha capito questo aspetto nella storia nella nostra autori o critici nella nostra storia del Novecento sì ce ne sono due e che sono stati legati da un proprio per questo se vogliamo da un vincolo strettissimo e sono per quanto riguarda la storia della critica letteraria un filologo romanzo cioè Gianfranco Contini ho sottolineato filologo romanzo perché voi vedrete che coloro che più hanno riflettuto su questo aspetto e hanno prodotto i più grandi libri sulla letteratura europea e sulla crisi della letteratura europea e sulla crisi della critica letteraria proponendo dei nuovi modelli metodologici sono stati alcuni filologi romanzi non lo dico perché faccio il filologo romanzo oltre che l'italianista ma perché è un dato di fatto come vedremo i due libri più importanti scritti sulla letteratura europea sono di Auerbach e di Kurzius come sapete ma Gianfranco Contini è colui che per primo capì le potenzialità e l'intelligenza di Pierpaolo Pasolini e entrambi attraverso l'opera creativa Pasolini attraverso l'opera critica Contini hanno proposto una diversa interpretazione del novecento e andando a ritroso anche di tutta la letteratura italiana precedente fino a Dante fino a determinare quello che io ho definito qui un cortocircuito decisivo perché a un certo punto loro immaginano che la letteratura italiana del novecento debba essere intesa e valorizzata soprattutto per quanto riguarda il filone espressionistico filone espressionistico vuol dire un filone che mette al centro il plurilinguismo il pluriculturalismo e anche la diversità di generi se voi pensate a cosa significa nella letteratura europea e nel mondo il plurilinguismo il primo nome i primi due nomi che vi vengono in mente diciamo anche i primi tre nomi sono tre nomi che non a caso Pasolini frequenta molto sono James Joyce sono Thomas Elliot e Ezra Ezra Pound tutti e tre autori che della riflessione sulla crisi hanno fatto il proprio centro nei rispettivi generi letterali ora riflettendo su questo aspetto e Pasolini in particolare come vedremo da questa dalla sua scoperta dell'espressionismo Contini e Pasolini propongono un'interpretazione della critica della 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 letteratura italiana che riporta le origini dell'espressionismo in realtà fino a Dante Dante come autore plurilinguistico nella commedia ovviamente non certo nella nella lirica anche se pure per la lirica qualche cosa si potrebbe dire al riguardo dal punto di vista delle sue sperimentazioni e fanno di Dante il l'autore decisivo per reinterpretare il novecento non Petrarca non a caso Contini lavora su Petrarca fa una grande edizione di Petrarca ma in quanto modello fisso e stabile della lirica europea fino e soprattutto per l'Italia fino all'otto novecento tanto da determinare un conservatorismo profondo della lirica italiana soltanto che un autore espressionista come Pascoli un autore a noi probabilmente ormai non particolarmente caro però Pascoli dal punto di vista espressivo espressionistico è l'autore che rifonda il linguaggio poetico italiano e infatti tutti i grandi autori del novecento Montale compreso assumeranno Pascoli come uno dei loro punti di riferimento ecco vanno all'indietro e e saltano se volete il periodo più glorioso della letteratura italiana l'umanesimo e il rinascimento perché vanno e assumono da questi periodi dal cinquecento seicento solo quegli autori che a loro sembrano continuare la linea espressionistica e tutto ciò poi troverà conferma vedete quando i nuovi media i media entreranno in discussione come vedremo come scopre Pasolini l'espressionismo e come viene scoperto da Contini ce lo dice lui stesso in un'intervista con un giornalista intellettuale americano molto famosa ci dice che prima lui assume il dialetto friulano come come dire contatto con la propria terra e i personaggi della propria terra poi scopre che attraverso il friulano che quel dialetto gli può far capire il mondo contadino e una volta fatto questo passo in avanti non si può più fermare e comincia a usare il dialetto non come strumento estetico ermetico come in quello che resta forse il suo libro poetico insieme alle ceneri di Gramsci più bello cioè la la meglio il titolo il titolo originale esatto suggeritemelo voi in friulano è la nuova gioventù eh? la poesia a casarsa che poi diventerà la nuova gioventù eccetera eccetera attraverso poesia a casarsa un un dialetto friulano incomprensibile la più gran parte degli italiani ma usato dal punto di vista fonetico ed espressivo in un modo appunto ermetico però attraverso questo modo ermetico lui capisce che il dialetto ha contiene in sé un elemento realistico e quando è costretto a trasferirsi a Roma dopo il processo egli riscopre un altro dialetto il dialetto romanesco come dialetto delle plebi romane delle plebi che si erano concentrate non in una metropoli perché Roma non è mai stata una vera metropoli ma certo in una città che radunava dopo la seconda guerra mondiale contadini da tutto il sud per l'industria edilizia nelle borgate romane egli riscopre il dialetto e attraverso il dialetto scopre la realtà e l'espressionismo quindi questo lo porta progressivamente a teorizzare in un certo senso comunque a praticare come anche dal punto di vista critico contini una rilettura retrospettiva non solo fino a Dante ma una rilettura che lo porta a incontrare i grandi autori del novecento fra cui soprattutto poi in vecchiaia in vecchiaia diciamo poco prima di morire un poeta che doveva essere ideologicamente molto ostile e repellente anche perché era Ezra Pound un più grande poeta americano probabilmente del novecento quello a cui lo stesso Elliot si rivolgeva per correggere la terra desolata che però in cui però egli scopre una problematica simile alla sua Pound come poeta di una fine della civiltà contadina negli Stati Uniti è poeta anche egli plurilinguistico così come plurilingue era stato era stato Elliot più consapevole da un punto di vista alto-borghese della crisi dell'Europa la terra desolata quello che viene considerato uno dei tre dei più grandi poemi lirici del novecento è una disperata ricognizione della crisi dell'Europa attraversata attraverso la letteratura italiana dalla Grecia antica fino al novecento ora quindi ciò che loro assumono come criteri guida sono anche criteri guida che in realtà anche a scuola a mio parere funzionerebbero perfettamente mescolanza degli stili plurilinguismo e letteratura europea il che significa anche la possibilità per gli insegnanti di letteratura italiana di poter stabilire dei contatti delle convergenze con gli insegnanti di lingua straniera il che pone poi lo affronteremo dopo il problema della disponibilità di tempo per queste operazioni perché naturalmente allargare con un programma già enormemente vasto che porta credo quasi sempre a ridurre lo spazio destinato al novecento e su questo vi farei una proposta scandalosa rivoluzionaria finale che porta a determinare l'impossibilità di studiare a scuola gli autori nostri contemporanei ecco forse un rapporto con le altre letterature una scansione diversa modalità diverse di insegnamento possono risolvere anche il problema temporale ora come mai però tutto ciò soprattutto in tempi recenti in questi ultimi anni è diventato un problema un problema che è stato affrontato in vario modo perché naturalmente riuscire ad affrontare il problema di una letteratura europea è diventato anche un problema politico perché abbiamo fatto l'Unione Europea molto parzialmente però è qualcosa che noi stiamo vivendo i nostri figli se tutto va bene i nipoti continueranno a vivere se prima non scoppia un inferno pensare a un'Unione Europea significa anche pensare a qualcosa che che possa essere apparentata se volete a quello che l'Italia ha dovuto affrontare dopo l'unità d'Italia perché l'Italia era composta da stati diversi l'uno dall'altra tutti usavano come lingua scritta l'italiano ma tutti avevano un'altra lingua d'uso un lombardo non era in grado di capire un siciliano un campano non era in grado di capire un emiliano c'è un film che purtroppo non sarà dato sugli schermi dei cinematografi ma sarà solo in televisione attraverso Netflix si chiama Il treno dei bambini fatto da Cristina Comencini che è un film che ricorda un episodio vero accaduto dopo la seconda guerra mondiale circa 50.000 bambini che morivano di fame a Napoli che furono ospitati e poi stabilirono dei legami che durarono nel tempo da famiglie emiliane subito dopo la guerra bene in questo film a un certo punto ci sono delle scene in cui il bambino napoletano parla napoletano l'adulto emiliano non è in grado di capire e viceversa questo ancora nel 1946 figuratevi nel 1860 e 70 è un problema simile a quello che l'Unione Europea deve affrontare adesso come l'ha affrontato l'Italia e questo ci pone in una condizione di vantaggio se volete per proposte positive al riguardo l'ha affrontato stabilendo un canone accettando una proposta che è stata molto criticata credo anche giustamente di Manzoni di fiorentinizzare l'italiano di usare maestri italiani in tutte le scuole del regno però attraverso un canone comune alle scuole quella famosa frase abbiamo fatto l'Italia adesso dobbiamo fare gli italiani è avvenuta perché esiste una letteratura italiana ormai comune a tutta l'Italia da molto tempo già prima della prima guerra mondiale e io non dico che occorra creare una letteratura europea comune perché data la differenza anche linguistica da slavo tedesco lingue romanze eccetera tutto ciò è difficile però si potrebbero riconoscere gli elementi comuni come dire il canone basilare comune europeo riconosciuto da tutti gli europei molti anni fa la sapienza facendo un sondaggio alcuni migliaia di studenti alcune centinaia di professori di letteratura in tutta Europa Turchia compresa e venne fuori alla domanda a molte altre domande per la verità anche molto interessanti ma c'è una domanda che torna bene per noi la domanda era quali sono secondo voi i più grandi autori della letteratura italiana beh ci fu una percentuale di risposte che identificarono in dieci autori autori che fino al 65% il 90% delle risposte che venivano riconosciuti come gli autori più importanti per la letteratura italiana ora questo per dire che esiste un problema di identità europea che non è né nazionale né nazionalistico ed è un problema però che ormai come vi accennavo prima e come capì per primo anche in questo caso Pasolini si è dovuto scontrare e si scontra a scuola col fatto che la letteratura e la scrittura e il testo scritto sono stati rovesciati dall'ingresso dei media fino ai social perché lo studente oggi lo so attraverso anche pratica familiare non legge se non raramente libri legge il cellulare si fa una cultura attraverso il cellulare neppure più la televisione è un mezzo praticato quindi noi a scuola dobbiamo fare i conti con questo problema questo problema ci rimanda però di nuovo guardate qui Pasolini io sembrerò un po' fissato sul problema Pasolini però io credo che Pasolini che pure può non piacere come autore anche se io credo abbia scritto almeno due romanzi straordinari quelli appunto romani è un poema le ceneri di Gramsci oltre che poesia a Casarza straordinari fra i più belli del novecento ma soprattutto è qualcuno che ha ragionato su questi aspetti e che ha fatto della propria vita letteraria e culturale un tentativo di risposta a questi problemi come Contini l'ha fatto dal punto di vista della critica letteraria ecco che nella evoluzione nella storia di Pasolini arriva un momento in cui sempre lo sappiamo attraverso quell'intervista a John Holiday del 1900 mi pare non voglio darvi una data che non vorrei sbagliarmi fra 68 e 74 poco prima della morte ci dice perché a un certo punto egli dopo aver praticato il romanzo dopo aver praticato l'espressionismo anche nel romanzo oltre che prima nella lirica abbandona il romanzo e gradualmente dice anche la poesia in segno di protesta contro la realtà e la società italiana ho detto vori o volte che mi piacerebbe cambiare nazioni rinunciare all'italiano e adottare un'altra lingua e fu così che mi compì come una folgorazione l'idea che il linguaggio cinematografico non è una lingua nazionale ma piuttosto quella che definirei transnazionale e transclassista cioè un operaio e un borghese un abitante del cano uno americano usando il linguaggio cinematografico usano tutti un sistema di segni comune guardate qui noi tocchiamo con mano anche se vogliamo i limiti di Pasolini perché in questo momento lui già molto maturo in questa direzione tocca un problema straordinario ma lo tocca come lo può toccare un grande autore creativo non come lo può toccare un grande pensatore o sociologo o intellettuale o filosofo si accorge che è cambiato qualcosa nel rapporto fra scrittura e mondo perché ormai e negli anni 50 badate il cinematografo investiva l'immaginario di milioni di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo come poi la televisione come adesso i social e gli si rende conto che le cose sono cambiate la passione che aveva assunto la forma di un grande amore per la letteratura e per la vita si era spogliata dell'amore per la letteratura dell'amore per la letteratura badate bene è l'unico autore che dice questo poi vedremo cosa fa Calvino rispetto a questo diventando ciò che era del vero cioè una passione per la vita per la realtà per la realtà fisica sessuale oggettuale ed esistenziale attorno a me guardate che qui noi tocchiamo già un punto che riguarda esattamente la letteratura a scuola perché rifiutare la letteratura per Pasolini non vuol dire averla rifiutata per sempre la continua a praticare soltanto che attraversa i generi Pasolini è insieme un giornalista un saggista un romanziere un poeta uno sceneggiatore uno scrittore di testi per canzoni un regista uno sceneggiatore attraversa tutti i generi e li attraversa proprio perché ormai è entrata in crisi la nozione di letteratura come scrittura pure semplice precedente attraverso questo rapporto con Tini Pasolini noi possiamo attraversare positivamente la non posso farvi qui gli esempi e come affrontare altri autori ma Montale è parte di tutto questo discorso tanto per fare un nome e ne sono parte anche colori che lo rifiutano come per esempio Saba per rimanere alla poesia ma facciamo il caso più eclatante più importante cioè del più grande scrittore italiano io credo del novecento insieme a Pasolini cioè Calvino la scrittura di Calvino è la scrittura come sapete credo più straordinaria che si dia nella lingua e letteratura italiana Calvino nelle lezioni americane un testo straordinario ci spiega molto esplicitamente le stesse cose che io vi ho detto fino allora non ve le vorrei leggerle ma lo conoscete a memoria forse questo pezzo no? è il prologo la premessa alle lezioni americane e lui qui ci dice chiaramente che siamo alla fine del millennio del libro cioè la stessa cosa che in altra forma ha detto Pasolini all'interno della sua attività creativa forse il segno che il millennio sta per chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sorte della letteratura e del libro nell'era tecnologica cosiddetta post-industriale non mi sento di avventurarmi in questo tipo di previsioni ma la mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici attenzione a questa frase vorrei dunque dedicare queste mie conferenze ad alcuni valori o qualità o specificità della letteratura che mi stanno particolarmente a cuore cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio in altre parole la crisi della letteratura e qui cito sempre Calvino si risolve dunque solo all'interno della letteratura vedete come qui sia una risposta assolutamente speculare opposta a quella di Pasolini no? riconoscimento di una crisi riconoscimento di una crisi della letteratura come scrittura impegno inesausto devo dire quasi drammatico per tutta la vita a dimostrare che ci sono valori che solo la letteratura può dare ma qui la domanda potrebbe essere a chi e come no? ma è chiaro che se noi vogliamo affrontare una a scuola una linea storiografica del novecento che sia riducibile in modo che noi non si debba fare proprio tutti gli autori a scuola ma gli autori quelli che richiede poi il programma finale certo sì ma li possiamo collocare all'interno di questa linea perché fra questi due estremi per così dire che non a caso polemizzarono molto fra loro ma erano ma si stimavano anche moltissimo noi possiamo collocare tutta la letteratura italiana del novecento e quindi dare una risposta a quel problema storiografico che in un certo senso determina un caos nei manuali scolastici del novecento cioè l'incapacità a trovare un filo conduttore che spieghi bene che fissi quello che un grande storico inglese definiva un campo intellegibile del sapere quando noi facciamo una ricerca noi abbiamo sempre un'idea di quel che dobbiamo ricercare in qualche modo ma poi è la ricerca stessa che ci porta in avanti ma noi dobbiamo non possiamo affrontare tutta la letteratura del novecento noi dobbiamo cercare di capire su quale campo ci possiamo concentrare cosa dobbiamo andare a mirare come fanno gli scienziati quando devono fare l'analisi di un fenomeno devono capire dove andare a puntare il microscopio non su tutto quello che vedono intorno a loro per Calvino la risposta è il piacere della letteratura e certamente è un piacere che dura sino ad oggi ma noi dobbiamo nel contempo sapere quel che Calvino sapeva e Pasolini sapeva che ormai la letteratura aveva generato da se stessa badate bene perché il primo cinema la prima televisione attraverso i romanzi sceneggiati le serie televisive che adesso costituiscono il core business della televisione hanno origine dalla letteratura ma da una letteratura che viene reinterpretata riusata in altro modo come il milione di Marco Polo è stato usato in mille in altri modi anche anche nei fumetti vedete come Calvino su questo punti le sue carte in maniera quasi ossessiva è geniale perché capisce che non c'è solo una crisi del romanzo della letteratura c'è una crisi della lingua perché la lingua ormai si è come dire resa approssimativa e casuale dice sbadata voi provate a vedere a leggere un qualsiasi pezzo di Calvino e vedrete quanta precisione quanta precisione scientifica direi ci sia nel suo uso della lingua la sua ricetta è quella di esaltare ed è una ricetta forte positiva che a scuola può essere praticata mettendola a confronto anche oppositivo come si fa anche in linguistica con l'altro strumento che noi possiamo usare a scuola lo strumento di Pasolini cioè l'attraversamento dei generi l'usare un film uno spezzone di film l'usare una teatralizzazione di un testo fatto dagli stessi studenti che vale persino per la commedia cioè possiamo usare gli altri generi sia letterari sia mediali per far comprendere la profondità l'importanza anche del testo letterario per scale acquisizioni successive questa stessa crisi per Calvino vedete non a caso riguarda anche l'immagine perché l'immagine è ciò che nel novecento con la la riproducibilità del 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 testo e delle immagini attraverso la fotografia ha prodotto un'altra un'altra crisi e ha messo l'immagine al centro dell'attenzione soppiantando la parola quindi ma anche per l'immagine si è determinata questa questa abbassamento di livello quindi anche per l'immagine per la storia dell'arte Calvino ci dice che gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente come i segni che non lasciano traccia nella memoria ma non si dissolve una sensazione di estraneità e di disagio cioè questi sono strumenti che non scavano nell'interiorità dell'essere umano che non scavano nell'interiorità noi possiamo aggiungere dello studente ciò che sfugge oggi a scuola è poter stabilire io credo un dialogo reale molto spesso con l'interiorità degli studenti anche se la scuola è l'unico luogo che si dà nella società d'oggi perché non lo è più molto spesso neppure la famiglia come vediamo dai fatti tragici che leggiamo tutti i giorni sui giornali e dove spesso la domanda dei genitori è ma come ho fatto a non accorgermi di tutto ciò ma la scuola è l'unico posto dove tutto sommato gli studenti con dei grandi docenti sono disposti a entrare in interlocuzione in dialogo se il docente è capace di fare entrare in interlocuzione gli studenti fra loro e diventare come dire una specie di tutor che li porta avanti questi sono gli anticorpi che Calvino dà al degrado e alla crisi della letteratura e della scrittura sono le conferenze straordinarie che egli fa aveva preparato per le Norton Lectures in America io qui vorrei saltare un attimo alcune cose che avevo pensato perché mi sono ricordato di una cosa che ho sempre pensato rispetto a Calvino e che riguarda uno dei due grandi autori che hanno scritto una letteratura europea cioè Colcius vedete che cosa ci propone con questi anticorpi valori o qualità specifici della letteratura e che cosa fa in quei saggi che ha raccolto nelle lezioni americane Calvino egli ci propone un percorso tematico della letteratura europea se voi pensate un attimo a uno qualsiasi dei capitoli diciamo delle lezioni di lezioni americane vi accorgerete che egli fa un attraversamento diacronico di tutta la letteratura dalla letteratura greca e latina fino alla letteratura contemporanea ma questo è esattamente lo stesso percorso che fa Ernst Robert Curcius nella sua nella nella letteratura europea e medioevo latino uno dei due grandi classici che hanno affrontato e io dico risolto perché ormai sono più di 70 anni che questi libri ancora dominano la critica letteraria del mondo e questo è un caso eccezionale perché normalmente un grande libro di critica non resiste alla propria generazione questi sono libri che hanno attraversato ormai tre generazioni Curcius è stato appena ristampato lo scorso anno Auerbach viene continuamente ristampato ed entrambi sono continuamente oggetto di convegni in tutto il mondo sono passati attraverso lo strutturalismo attraverso la semiologia hanno fondato la critica tematica quella di Calvino in un certo senso nelle lezioni americane hanno fondato un modo di attraversare la letteratura che certo non può essere quello che gli insegnanti propongono a scuola perché gli studenti devono essere in grado di avere un'idea cronologico geografica di come sono si svolte le cose nel mondo ma certo funziona l'università e comunque anche a scuola può essere interfacciata con la consecuzione lineare delle cose io siccome vedo che ho parlato forse troppo salto alcune cose che avevo preparato per voi ma mi fisso su queste e su come su come affrontare il problema di praticare il metodo di Calvino il metodo di Auerbach e Cursius e le necessità dell'insegnamento nella scuola secondaria con i tempi e le necessità della scuola qui soltanto due schede c'erano ma magari le metteremo online tutte queste una per Auerbach e una per Cursius dove entrambi vedete ci dicono le stesse cose ma ce le dicono trent'anni prima che poi dirà Calvino nelle lezioni americane e che intuirà e comprenderà Pasolini in quella spiegherà Pasolini in quell'intervista ma se noi guardiamo a quello che hanno fatto Cursius e Auerbach c'è un qualche cosa che è evidente agli occhi di tutti ma che spesso come tutte le cose più evidenti sfugge perché che cosa ci dice Auerbach rispetto al metodo che lui usa guardate l'ultima frase di questa slide a me interessa qualche cosa di universale cioè qualche cosa che attraversi tutte le letterature mi accosto dunque al testo non considerandolo isolatamente anche se Mimesis è una raccolta di grandi saggi diacronicamente intese non senza presupposti cioè ho un'idea a quel che vi dicevo prima gli rivolgo una domanda e la cosa in più importante è questa domanda non il testo guardate dietro questa semplice frase c'è una rivoluzione metodologica perché è la negazione del principio storicistico che è imperversa nei manuali e soprattutto nella tradizione italiana perché qui si pone al centro la contemporaneità si pone al centro il soggetto contemporaneo che decide di fare una domanda al testo e quello ai testi letterari e quello che è importante non è l'analisi lo sarà dopo necessariamente non è il testo ma la domanda che gli rivolge perché la domanda è quella che orienta pregiudizialmente se vogliamo ma pregiudizialmente in base ai bisogni alle necessità alle idee del soggetto contemporaneo quindi è un tempo rovesciato è uno storicismo retrospettivo quello che aveva teorizzato Nietzsche uno dei primi a parlare della crisi dell'Europa alla fine dell'Ottocento ed è la stessa cosa che in realtà fa perfino Auerbach anche se non è facile non è facile rendersene conto perché anche anche Cursius fa una domanda pregiudiziale e orientata ai testi quali sono le cose che si ripetono attraverso il tempo e dunque arriva a stabilire anche lui un principio fondamentale addirittura dei mass media neppure della letteratura cioè la serialità il fatto che il ripetersi di moduli è significativo ed è più significativo il ripetersi dei moduli nei testi che non la qualità del testo stesso cioè anche questo è un rovesciamento dell'estetica idealistica guardate che Cursius è stato uno dei più grandi critici letterari dal punto di vista della qualità dei testi e quello che ha scoperto prima di tutti Joyce Proust Musil e compagnia cantando ma quando deve riflettere sulla crisi dell'Europa e sulla crisi della letteratura egli vi riflette secondo un metodo quantitativo seriale deve misurare come si fa nelle scienze quello che rimane e deve capire che cosa significa quello che rimane quindi entrambi partono hanno i piedi piantati nella contemporaneità quindi quella che possiamo definire una storiografia retrospettiva allora qui vi propongo una questione utopica ma su cui io forse ho intenzione di scrivere un libretto se avrò tempo perché io credo che ci sia vedete non a caso ancora una volta Gianfranco Contini il sodale il compagno di proposte di Pasolini che nel 1942 intervistato su come si dovesse insegnare la letteratura a scuola disse delle cose semplicissime ma che non sono praticabili a scuola perché sarebbero una rivoluzione totale anche se qualcuno ogni tanto ne ha vagheggiato disse secondo me a scuola noi dovremmo cominciare dalla letteratura contemporanea perché i ragazzi i giovani della letteratura contemporanea sono innanzitutto in grado di intendere perfettamente la lingua e la loro lingua sono i loro problemi e la loro storia poi dovremmo andare all'indietro eh perché non a caso guardate noi quello che mettiamo in mano agli studenti voi quello che li mettete al primo anno di liceo o al terzo adesso è quello che è più difficile per lingua è più difficile per concetti è più difficile per idee per filosofia per tutto diceva Contini non bisogna cominciare dalla A bisogna cominciare dalla Z cioè appunto quella storiografia retrospettiva che non per nulla abbiamo identificato in chi si è occupato di letteratura europea e di crisi della letteratura europea e di crisi più generalmente della letteratura e della scrittura tutto ciò non c'è nelle letterature che voi avete a scuola oggi e temo che per voi sia ma qui sarei curioso di sentire la vostra opinione anche da lontano non c'è nelle antologie e nel nel mondo però diciamo nel mondo scolastico italiano questa è un'altra parte che non posso affrontare oggi ma che vi ho già accennato prima quando vi ho detto di quello che si è fatto in Italia dopo l'unità d'Italia vedete l'Italia la cultura italiana l'Accademia degli Incei anche e qualche volta stiamo un po' provando a farlo è in una posizione favorita per poter fare delle proposte innovative in campo europeo perché quello che per la letteratura europea è per cercare di costituire di proporre una materia letteratura europea comune a tutti e 27 i paesi dell'Unione Europea guardate non è un fatto nazionalistico non è un fatto naturalmente bisognerà stare attenti a non concepire una fortezza Europa come diceva Hitler la fortezza Europa contro tutto il mondo deve essere una letteratura europea aperta al mondo che però è consapevole di se stessa è consapevole dei propri valori anche quelli di Calvino perché badate i valori europei non sono gli stessi nordamericani statunitensi nei valori cinesi noi siamo figli ed eredi di tutto un percorso politico culturale che ci ha formato come Sonia e ha formato una letteratura europea come è la questione della tolleranza che noi non abbiamo praticato quando abbiamo colonizzato paesi estereuropei anzi ma siamo stati capaci di capire che cosa abbiamo combinato un libro come Cuore di Tenebra di Corrad è la presa di coscienza più estrema della tragedia del colonialismo europeo e come valore noi la tolleranza la pratichiamo ci sono paesi che non ce l'hanno neppure come valore ci sono tanti altri valori che definiscono l'identità europea ecco questi sono i valori che noi attraverso un canone e una letteratura europea comune potremmo provare a riconoscere e forse questa è una proposta che potremmo fare all'Europa proprio avendo dietro di noi l'esperienza della costituzione di un canone e di una letteratura italiana moderna quindi Italia ed Europa vanno un po' insieme e di un po' insieme e di un po' insieme di un po' insieme di un po' insieme e di un po' insieme e di un po' insieme